Sono a Verona nella casa natale di Irene e oggi è anche il suo compleanno, auguri! Nella taverna c'è questo forziere di cui ha perso la chiave e praticamente non lo apre da più di 15 anni. Chissà cosa ci sarà dentro, io sono super curioso! Ora dobbiamo trovare il modo di scassinare la serratura. Proviamo con una graffetta. L'ho modificata e ora... Mi sa che funziona bene solo per raccogliere la polvere. Guardando la serratura assomiglia molto a quella delle porte, quindi proviamo con questa. Sembra che possa funzionare, ok. Giriamo. Ha funzionato! No, scherzo, è a vuoto. Mannaggia! Cavolo! No, era solo durissimo, ce l'abbiamo fatta al primo colpo, oltre che scassinatori! Ed ecco i giochi d'un tempo di Irene, un cestino. Questo che cos'è? È un bruco di legno domestico, come lo chiamiamo? Brucolo! Brucolo! Poi la classica scatola di biscotti. Vai, apri! Wow! Bellissimo questo! C'è un dinosauro, un pappagallo, un elefante. Come lo chiamiamo questo? È il chimeratore. No, intendo l'animale. Il coccocellofante. Coccocellofante, un nome bellissimo. Voi come lo chiamereste? Delle trottole le proviamo. 3, 2, 1, via! Bellissima! E si è ricaricata automaticamente! Ad Irene piacevano tantissimo gli animaletti. Guarda che carina! Questa è una lumaca! Allora, sei felice? Sì! Se questo video ti ha condiviso un po' di felicità, commenta Brucolo! Oppure, auguri Irene! No, dai! Sì, dai! No! Si vergogna. Ricordati di spegnere le prese che non usi. È un piccolo gesto per la felicità del pianeta. Ricordati di spegnere le prese che non usi.